Juventus a giugno Bonucci potrebbe lasciare Torino Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a giugno Il centrale ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024 ma potrebbe anticipare la sua partenza dopo una stagione condizionata da diversi infortuni muscolari Ha giocato gli ultimi minuti del match contro lo Spezia e potrebbe rappresentare un'alternativa importante in difesa Quello che sembra certo è aver perso la titolarità con Bremer attualmente il centrale della difesa a tre e supportato da Danilo e da Aleksandro Quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera Per Bonucci si parla di un'esperienza professionale nel campionato americano Magari al Toronto del suo ex compagno Bernardeschi o al Miami FC Dove invece gioca il suo compagno di difesa in bianconera e in nazionale e amico Giorgio Chiellini C'è anche la possibilità di trasferirsi in un campionato ancora meno competitivo di quello americano rispetto a quello europeo Ci sarebbe un interesse dell'Al Nasser che gli offrirebbe un ricco contratto Rimanendo in tema partenze, abbiamo parlato di Aleksandro, oltre che di Juan Quadrado La Juventus cercherà di confermare invece Angel Di Maria e Adrien Rabiot Molto dipenderà dall'eventuale qualificazione alla Champions League da parte della società bianconera Difficile il riscatto del cartellino di Paredes La Juve potrebbe considerare una sua permanenza se la società francese decidesse di prolungare per un'altra stagione il prestito del giocatore